La ferrovia Alessandria Cavallermaggiore è una linea ferroviaria italiana di proprietà statale a scartamento ordinario che collega Alessandria Cavallermaggiore, passando per Nizza Monferrato e Castagnole delle Lanze. Il primo tratto ferroviario fu aperto il 1 ottobre 1855 come diramazione della Torino Cuneo che da Cavallermaggiore giungesse fino a Brà. Attorno alla metà degli anni Sessanta del XIX secolo si decise di proseguire la linea per collegarla ad Alessandria. I lavori partirono da Cantalupo, stazione della linea Alessandria-Acquai, in direzione di Brà. Si raggiunse Nizza Monferrato il 13 ottobre 1864, mentre il tronco che da questa cittadina arrivava fino a Canelli fu aperto il 25 febbraio 1865. Il 26 maggio dello stesso anno, aperto all'esercizio il tronco fra Canelli e Brà, che completava l'itinerario prestabilito avvenne l'inaugurazione ufficiale con grandi festeggiamenti. Con il cambio orario del 17 giugno 2012 il servizio ferroviario fra Alessandria e Alba venne sospeso e sostituito da autobus. Il tratto fra Alba e Castagnole delle Lanze era già chiuso e sostituito da autobus dal 2010 per problemi alla Galleria Gersi, tra Barbaresco e Alba. Metterla a posto, no. Il 19 dicembre 2015 sono iniziati i lavori di elettrificazione della tratta Brà, Alba, così da permettere ai treni elettrici della linea SMF4 Torino, Brà di proseguire fino ad Alba. L'11 dicembre 2016 è entrata in funzione l'elettrificazione tra le stazioni di Alba e Brà. La linea è una ferrovia a binario semplice a scartamento ordinario da 1435 mm. La gestione dell'infrastruttura e degli impianti ferroviari è affidata a RFI SPA, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, che qualifica la linea come complementare. La linea è priva di alimentazione elettrica, ad eccezione del tratto a doppio binario tra Alessandria e Cantalupo, che è in comune con l'Alessandria-San Giuseppe di Cairo, e del tratto tra Alba e Brà, entrambi elettrificati a 3000 volt in corrente continua al servizio passeggeri e merci era espletato da treni a trazione diesel. Basta, riapriamo la Alessandria-Alba. Le stazioni erano Alba, Barbaresco, Neive, Castagnole delle Lanze, Costigliole d'Asti, Santo Stefano Belbo, Canelli, Calamandrana, Nizza Monferrato, Incisa Scaparcino, Castelnuovo Belbo, Bruno, Bergamasco, Carentino, Oviglio, Cantalupo, Alessandria.